Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di SteamWorldQuest Bene, sono andato nell'altra zona come vi avevo detto e sono sbucato qua Quindi vediamo cosa c'è Il 130% di forza di danni da tempesta a tutti i nemici ha una possibilità di 500% di infliggere confusione Cazzo, 485 è tanto a tutti i nemici E' una bella cosa come di massa Ci devo pensare, ma sono tutte carte buone Massimo 8, ne possiamo portare troppo poco Aumentare la difesa fisica di tutti gli avversari Vabbè, non importa Andiamo pure avanti, così ritorniamo dove eravamo nello scorso video Siamo a posto, spero che sia questa Ok Quindi io risalvo, intanto ho fatto quello che devo fare Guardiamo un'altra, questi non ci sono più Ma guardavo se effettivamente ho fatto tutto Sì Ho fatto tutto Sto considerando, sì dove ho fatto tutto Ok, scusatevi Insomma, a un certo punto Abbiamo salvato, quindi siamo a posto, siamo tranquilli Siamo rigenerati, qui non c'è niente Andiamo pure avanti A rompere un po' di cose E ci stiamo Sono salito di livello ma non mi ha dato niente di rilevante Quindi non ve lo fate neanche vedere Più che altro HP mi ha dato E quindi sì Eccolo qui, l'ultimo luogo di riposo del Behemont Prima di venire impressi sulle pagine dei libri di storia La temperanza della Lux Ultima Eresse E questa fortezza sul corpo esami del mostro Ah, proprio l'hanno costruita su Va bene, andiamo Ce l'hanno impigionato dentro costruendoci proprio sopra la Eh ragazzi, io non so dove cazzo forse L'ho staccato di cose Le ho cercate ma non le ho trovate Le farò off camera E speriamo bene di trovarle Pazienza Avendo superato le pericolose montagne e ghiaccio scure Il GoPro entra finalmente nella fortezza di Gigamesh E quindi andiamo alla nuova sfida Diciamo, credo sia l'ultima Capitolo 17 Ok Eh, sulla soia di destino Vediamo un po' Adesso un'altra mezz'ora di dialoghi come minimo Ah, beh, meno male Andiamo verso la fine Sarà un casino da leggere Oh, un fungo Che strano Cosa? Tu non vedi la vescia alla menta peperita Proprio di fronte a noi? Non saprei E' un uggioso vecchio castello Nulla fuori dall'ordinario, no? Che sia un'alucinazione? L'ho presa? Però non mi ha detto che l'ho presa È strano Guarda, è pieno Tutto ciò è veramente strano, ragazzi Veramente strano Ma, vediamo, proviamo E vediamo che succede Wow Allora Io andrei di questo Di questo E di questo Vai, facciamo una sfida abbastanza veloce Ah, bello Mamma mia, quasi morto Che sfiga Ma perché sembra per un pelo? Si identia loro Allora Questo Questo E questo Vai Oh, questo così è morto Non dobbiamo più preoccuparci Così viene diviso tutti e due Grande Grande Oh, cazzo Proprio lui che c'ha cecità Che sfiga Allora Andiamo un po' così Così e così E te sei morto però, eh Ah, beh Anche se aveva cecità l'ha preso, eh Beh, meno male Ok, andata Benissimo Dai, dai Che stiamo andando alla grande Vorrei capirci un po' di più Di quei funghi Cosa siano Però Va bene Proviamo Ok Ok E ok Vediamo se c'è qualcosa qui Ma Vedete che c'è qualcosa qui Ma come cazzo C'è vado lì C'è vado Lì Porca miseria E sembra che ci si va dall'altra parte Effettivamente io mi sono preso un colpo Mamma mia Allora Vediamo un po' Questo Più o meno hanno tutti la stessa vita Quindi facciamo così Va Vediamo che succede Vai Vai Grande E vai Perfetto Eh Figuriamoci Ha nullificato tutto Il mio attacco Eh Sì Vai Facciamo così E vediamo che succede Questo Non dico che lo ammazzo Però Io dico che rimane poco di vita 500 Dai 500 mi può stare anche bene Qui c'è un sacco di difese adesso Eh Facciamo Eh Facciamo Così E così Io dovrei Se non ho sfiga assurda Aver vinto Vediamo Eh Tutto da lui Ma guarda che A proposito di sfiga assurda L'ho vuta proprio tutta la sfiga assurda Non mi ha proprio risparmiato Porca miseria Dopo non decido io dove deve andare Il Il Insomma avete capito Il che Proviamo E speriamo bene adesso Perfetto Ormai manca poco Dai Oh Meno male Perfetto Tutti e due Meno male Perfetto Ok mi sta bene Adesso Andiamo qui Non c'è niente Andiamo di qua E quindi Se non Se C'è L'orientamento Non mi tradisce Dovrei andare A un certo punto di sotto Qui non c'è niente Stavo Stavo pensando Che ho capito Una cosa C'era una Nel episodio precedente Nel episodio precedente C'era un Un cancello chiuso Che fosse quello Vabbè adesso ci guarderò Poi Facciamo così Questo Questo E Questo Vai Così mi piaci Ok Ok Cominciamo a fare abbastanza Di danno Mi posso lamentare Già metà HP Solo lui Ok ovviamente C'è città Figuriamoci Come no Allora Facciamo così Facciamo così E facciamo Vai da lui Ma non stare sempre a cambiare Ok Vai E adesso Oh Killato Perfetto 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 Non posso Chiedere di meglio Vabbè quello si è rigenerato Ovviamente Vediamo Così Così E così Vai Così a meno Mi origen Che comunque fa qualcosa E lui Dovrebbe essere stontito Benissimo Ok Uno è anche Oh Meno male Dai Bene Speriamo che L'effetto Sia sparito Facciamo così 700 Ma proviamo E perché volete Cioè Facciamo così Dai Vediamo che succede Vai Perfetto Ho colpito uno Che proprio Aveva pieno alla vita Oh meno male Non è tanto Una buona notizia Insomma Ok Va bene così Mi va bene così Sto pensando Vediamo eh Mi tocca Far più forza così Grande E grande Ok Andata Io ho ancora i bonus Perfetto E vai Speriamo che la matta solo da uno Ok Ah beh Allora siamo a po' Una volta tanto Ce l'abbiamo fatta E abbiamo livellato Vai Che bello Sono contento Ok Adesso quindi In teoria Devo andare qua Poi giù Se voglio prendere Ok Ce l'abbiamo fatta Eh Preda Considere a Armini Di contrasignare un nemico Se il nemico viene colpito Anche a Armini Lo attaccherà Vabbè Ho capito Un contattacco Dedicato Diciamo Wow 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 Benissimo E abbiamo un punto save Che userei Assolutamente sì Una volta tanto Che il punto save In un punto giusto E vediamo cosa succede Qui ci sono due strade Oh Qui è chiuso Bene Due strade Che una porta su Che è un bel casino E l'altra Ha una porta Che è ovviamente chiusa Si deve bloccato E serviranno due chiavi Per aprire Ok Dovemo cercare Vediamo se c'è qualcosa qui Eh C'è tante cose Accidenti Acquista Vediamo un po' Armi Uh Fuoco Campo protettivo Onda tornante Rifresso di fuoco Io direi questo Io direi questo Si Poi Tu Uh Si Assolutamente si Mille volte si Perché l'altro Guardiano Però non mi interessa E adesso tocca Al mio Mine Diciamo Chiamiamolo così Celerità Non mi interessa Pioggia di lame Si Fortività Non so cosa faccia Fortività Secondo so che Quando meno Te lo aspetti Che cosa vuol dire Non spiegano Ragazzi Io cosa Cosa so Cos'è Sta fortività Andiamo di pioggia di lame E siamo a posto Ok ragazzi Ci ha dato delle belle cose Ho pochi soldi Rimastimi Regolato Alla perfezione Mai in ritardo Schivata più Annulla paralgi Annulla sonno Eh ma si Può essere buono Come no Comunque non ho i soldi E quindi niente E sono contento Potenzia carte Ehm Allora Togliamo tutta Sta roba Che non ci serve Un attimo solo Che ne voglio Un attimo Ehm Fare Ok E adesso c'è questa qua Va bene Allora Di qua Ok Allora Stavamo dicendo Io devo andare un attimo Da lui Eh ovviamente Non li posso potenziare Questa forse Che questa potrebbe essere buona 30 455 Ottimo Io la uso spesso E quindi mi va bene E basta Perché gli altri Mi ci vogliono delle cose Che non ho Qui 30 le ho Ma dopo rifinisco Va bene Dai facciamo così Mi sta bene Una cosa forse Lui Il pugno normalo Cosa mi chiedi 30 minerali E ce li ho E 412 Puoi potenziarlo ancora 60 460 Ragazzi Grande Mi è piaciuta sta cosa Mi è piaciuta tanto Eh Questa qui non sarebbe malo Ma non uso così poco Che alla fine Mi fa quasi Il potenziamento totale E quindi Lasciamo perdere Scusate se ho divagato Eh C'è un bel dito in culo Qui da fare Non so Esattamente Da fare Oh Salve Vediamo cosa mi dice Attenzione studenti e studentesse Boccalarga Di Alloqui Ma La neofita Copernica È convocata Presso lo studio Della direttrice Ma Per un'analisi Approfondita Delle sue Prestazioni È pregata Di presentarsi In fretta Ma che cazzo Avete sentito anche voi Vero Inizio a temere Che qui si cieli L'opera di qualche tipo Di retrospettro Cosa diamine È un retrospettro Un'edità Che scaturisce Dal subconscio Quando rievoca Incontri dal passato Forzando la vittima A riviverli Ah ecco Un eco mentale Se preferisci Sembra piuttosto divertente Ma Non lo so Sono pericolosi Posso avere una forza Possono avere una forza Imane Ma di rado Raggiungono La piena potenza Del ricordo Di cui provengono Che sollievo Si sarà da Preoccuparsi Vero Presumo di sì Vai E vediamo cosa succede Allora Adesso questa è potenziata Di tanto Io andrei da lui Andrei da lui E mi farei un bel Rigeno Rigeno Non c'è bisogno Eh questo Questo mi piace Va Facciamo così Adesso Oh Adesso si fa sentire È un pugno Bello potente Ragazzi eh Potenzialo due volte È stata una buona scelta E adesso Io direi di usare Ancora questo Usare Questo E usare questo Vai Così mi piace Mamma mia Che vuota Proprio una sivella atomica Ok Non ho visto se Regen si poteva Ripotenziare Porca miseria Ho fatto caso Ok Perfetto Oh Cosa vedono I miei sbalorditi occhi Ma toccate se Ancora pieno Tu sei immune Al fulmine Eh vabbè Faremo a mano Però io comunque L'ho colpito Con le botte Insomma L'ho colpito Ah lo rigeneri Ecco perché Adesso capisco Adesso capisco Non l'avevo proprio notato Non l'avevo proprio notato Quindi si rigenera Col fulmine Va bene Mi stai bene Basta saperlo Facciamo così Facciamo così Va Vediamo che succede Dai quello lì Si rigenera Addirittura Fulmine Una cosa brutta Ok Bene Mi sta bene Ah cazzo quanto si rigenerava Quello è paralizzato Mi va bene Eh Adesso che ho capito Sarà divertente Allora Questo attacco fisico Va bene Questo qua Eh Tutto dipende Allora diamogli attacco fisico Vai proviamo Vediamo che succede Ok Questo lo sente Eh si eh Oh va bene Dai non è fortissimo Come pensavo Ok Ah l'ha paralizzato Pensavo Invece E' riuscito a fare lo stesso Adesso Questo Sicuramente Qua Facciamo una cosa Vagamente intelligente Ah cazzo però Che ha fatto lui Che non può tirare un'arma così Porca miseria Mission bene Oh Questo grande Ah ecco Perché adesso ho capito Vai Ho capito adesso Vai Critico Grande Oh Ciao stronzo Mamma mia Eh si tu Evo quanto ti pare Che io qua Faccio una bella cosa Eh lui ancora Messo così Messo ancora così Io volevo Rigenerarmi un attimo Vabbè Facciamo così Vediamo che succede Ok Questo è andato Questa è andata E questa è andata Ok Adesso posso Si Fai quello che vuoi Posso usare Quell'arma che volevo Questa Per rigenerare lui Se no Si è messi male Facciamo così E facciamo E' morto Però insomma Oh Meno male Adesso mi sento un po' meglio Vai Certo che se me ne accorgevo prima Avrei fatto una figura di merda Ma se ne faccio una video Vai Perfetto Andata Andiamo pure avanti Ci sono due vie Anzi tre vie Mamma mia Che casino ragazzi Io mi perdo Mi perdo sempre Mi sto perdendo proprio tanto Oh Un altro pezzo di ricordo Stando alle nostre disposizioni Gli studenti Che hanno una cotta Per un insegnante Sono invitati A non indossare I propri cuori Sulle maniche Ma che cacchio Smetti di perdere tempo Tu Ragazza di Rilassati probabilmente Soltanto un altro Di quei Retroscopi Questo non è il modo Corretto di I nostri rapporti Erano Frettamente Professionali Intellettuali E protonici Come no Ma Vabbè Ok Io Sono sicuro Di aver cannato Un sacco di strade Non l'ho immaginato Oddio Di nuovo lei Tu Non sei reale Sei solo nella mia testa E' così che ti rivolge La tua direttrice Credo che sia Da un po' Di tempo Che tu debba Scontare una punizione La vediamo anche noi Fagliela vedere A quella Volatile Cocò Lo capisci che si tratta solo di un retrospettro Vero Carica Ok Vediamo quanto abitai Porca miseria 15.000 Non sei poco Non sei poco Proviamo a far così E andiamo lui Vai facciamo così Vediamo che succede Devo vedere Più o meno i danni che li faccio I fisici vanno Non so bene che Eh Eh Cazzo Eh 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 Allora Facciamo Così Così E curiamoci Va che è meglio Va Vediamo che succede Vai Perfetto 5.098 Già tutto Già tutto Aia Eh Vaffanculo Allora Facciamo così Facciamo così E facciamo così Vediamo che succede Va Vai Grande così Grande così Vai Vabbè dai Siamo messi abbastanza bene Sì A parte che stiamo per morire Però Sì Ok Mi piace Grande Vai Grande Vai Grande Immune Eh lo so che sei immune Perché te fai quella stronzata del Della Della stronzata Eh vaffanculo però eh Allora Vediamo adesso cosa fai Facciamo così Facciamo così E facciamo così Adesso tu farei immunità All'attacco fisico Esatto E adesso te A questi li prendi però Oh Grande Grande ragazzi Grande Mi sono piaciuto da solo Allora Immunità Danno fisico Sicuramente Intanto ci digeneriamo Facciamo così E limitiamo questa qui Ok Quindi tu vai Danno immunità Esatto Danno fisico Ok Perfetto Ok Eh mi ha fermato quello Ovviamente Allora Non posso fare altro Eh facciamo così Eh di purtroppo Posso fare diverso Eh vabbè Però intanto Gli manca solo mille Mi ha fermati due Però Ho liberato l'altro Va bene Mi sta bene Dovrei potercela fare Così eh Allora Intanto vediamo Se in caso Non ce la faccia Facciamo così E facciamo così Vediamo che succede Adesso non lo so Oh Ce l'ho fatta Mamma mia Ragazzi Dura eh Quasi livellato Sono contentissimo Ottimo Se So che era solo Che era molto Importante per te Lo era Comunque sia Continuiamo la nostra marcia Ok Questo è lo spirito giusto Bisogna sempre andare avanti Prendiamo le chiavi E torniamo Ah quindi c'è stata la chiave Questa è una delle chiavi Delle due Tre Non mi ricordo Ma che palle Allora Dove sono Non so se questa Effettivamente ci dimandi Là Non posso fare altro Andiamo lì In teoria sì Allora Non c'era un Punto save Qui vicino Sì qui giù Ok Ragazzi Io direi che ci possiamo Anche fermare qui Una volta che faccio un video Decente Quindi io come al solito Vi invito a lasciare un like Un commento Se mi piace la serie E fammi sapere cosa ne pensate E per adesso Vi saluto alla scia Ciao ciao Ciao